Stamane nell'udienza generale Papa Francesco ha parlato dell'esperienza di comunione e condivisione delle prime comunità cristiane denunciando l'ipocrisia di un'appartenenza ecclesiale negoziata, parziale e opportunista. Sentiamo le sue parole. Quante persone si dicono vicini alla Chiesa, amici dei preti, dei vesoi e soltanto cercano il loro interesse. Queste sono le ipocrisia che distruggono la Chiesa.